Entriamo nel vivo dell'incontro di questa sera, scienza e democrazia, rischi e incognite. Donatella Di Cesare, professore ordinario di filosofia teoretica alla Sapienza Università di Roma, è tra i filosofi più presenti nel dibattito pubblico italiano e internazionale, sia accademico sia mediatico. Collabora con varie attestate giornalistiche, tra cui la Stampa, l'Espresso e il Manifesto. I suoi libri e i suoi saggi sono tradotti in inglese, francese, tedesco, spagnolo, danese, croato, polacco e finlandese, norvegese, turco e cinese. Tra i suoi saggi, Terrore e modernità, Stranieri del 2017, Stranieri residenti, Una filosofia della migrazione, premio a Pozzale Luigi Russo 2017, sulla vocazione politica della filosofia del 2018 e Virus Sovrano, la sfissia capitalistica del 2020 e il tempo della rivolta, sempre del 2020. Signore e signori, Donatella Di Cesare. Grazie, buonasera. Sono, fatemi dire, anzitutto molto lieta di essere qui. È il mio primo incontro in presenza e quando mi hanno invitato a questo bellissimo festival, tra l'altro è per me la prima volta che sono a Asti e spero di ritornarci e di avere tempo per visitare questa veramente città che mi ha molto colpito, ho già fatto un giro e dicevo quando ho ricevuto l'invito a questo festival ero molto perpressa perché ho pensato ma chissà se si potrà appunto veramente, se potrà avere luogo in presenza oppure no, invece eccoci qui. Io credo che quello che ci è mancato in questo ormai anno e mezzo veramente traumatico che abbiamo alle spalle è proprio questo, cioè vederci, incontrarci, parlare di persona e cioè è mancato la polis, nel senso diciamo più eminente di questa parola perché nella differenza di opinioni, di riflessioni, di giudizi, quello che conta è poi appunto proprio il confronto ed è anche un po' il tema oggi della mia lezione e un po' diciamo queste due parole che sono due parole che ritornano continuamente nel dibattito pubblico e sono due parole così anche cariche di significato, così emblematiche appunto scienza e democrazia. E dunque io vorrei anzitutto, ve lo dico subito, io non ho risposte e credo anche, e l'ho scritto, l'ho detto più volte, che il mestiere dei filosofi, la vocazione dei filosofi sia proprio quello di sollevare domande, sollevare questioni. Io so e lo dirò anche più avanti, so che oggi noi cerchiamo delle risposte, però credo che nel cercare delle risposte sempre ci sia anche un po' un pericolo. E allora il mestiere dei filosofi e quei filosofi sono chiamati anche un mestiere un po' ingrato, un po' scomodo, è proprio invece quello di sollevare domande. Quindi io sono qui anche proprio per sollevare delle domande per fare domande a voi, farle a me stessa e credo che oggi, diciamolo pure ormai con qualche speranza, un po' di fiducia in più in questa era ormai post-covid, appunto che sia anche un po' il compito di tutti noi cittadine e cittadini, anche la nostra responsabilità quella di farci anche noi delle domande. Ecco, il primo punto che io vorrei trattare con voi è proprio il tema della scienza. Naturalmente io non voglio parlare, perché non è questo il problema, non voglio parlare della scienza in generale, ma vorrei parlare invece della scienza per quello che ha significato oggi per noi, per il ruolo che ha avuto. La prima osservazione che noi dobbiamo fare è che in fondo stiamo vivendo, credo che sia un po' un'impressione di tutti noi in questi giorni, perché immagino che quasi tutti siate già vaccinati, io già lo sono, ho fatto due dosi e insomma noi non possiamo non esprimere la nostra grandissima gratitudine alla scienza, al lavoro degli scienziati, a questo veramente record leggendario aver fatto essere riusciti a trovare il vaccino in così poco tempo, una produzione così rapida, su questo si deve riflettere, importantissimo. Dunque grande gratitudine, grande fiducia verso la scienza e assolutamente no, in questo caso un no deciso, a chi ne mette in dubbio il ruolo, a chi ne mette in dubbio i risultati e quindi questo io credo che sia una prima posizione importante da assumere, contemporaneamente però noi dobbiamo anche dire, credo che questa sia un po' l'esperienza di tutti noi anche in questi mesi, che questo è capitato in Italia ma è capitato anche in altri paesi europei o un po' ovunque, che certamente gli scienziati, i virologi, gli epidemiologi hanno assunto un peso molto importante nello spazio pubblico e nella politica. Ripeto, questo lo sappiamo benissimo, non riguarda solo l'Italia, riguarda tutto il mondo, anche se poi ci sono state, e vorrei anche accennare a questo, risposte diverse. Quello che io credo che ci abbia colpito anche proprio inizialmente è stato anche una giusta differenza di giudizi, cioè non tutti sono stati d'accordo, ci sono state divergenze. Ecco, questo io non l'ho trovato sconcertante, non l'ho trovato sorprendente. Perché? Perché credo che la scienza non sia, come molti credono, la verità oggettiva, tra virgolette, ma che la scienza sia ricerca e sia appunto questo continuo, questa continua anche aspirazione effettivamente alla verità, ma è anche sempre questo divenire, questo infieri. Mentre quello che avviene in questo periodo che avveniva in realtà già prima dell'epoca pandemica, ma che in quest'epoca, come dire, è diventato quasi uno stereotipo, è il ruolo dell'esperto. A me, diciamo, preme molto questa figura. La figura dell'esperto è una figura poco considerata, è una figura su cui si riflette poco e invece occorre fare una distinzione, ed è appunto la distinzione tra lo scienziato e l'esperto. Lo scienziato non sempre calca il palcoscenico, non sempre si presenta davanti allo schermo televisivo, non sempre si presenta nello spazio pubblico. Come dire, l'ubicon system, lo spazio dello scienziato, se noi lo immaginiamo tradizionalmente, è il laboratorio, comunque il campo di ricerca. Invece la figura con cui noi abbiamo avuto molto a che fare e con cui abbiamo ancora a che fare è la figura dell'esperto. Badate bene, l'esperto non è soltanto l'esperto, per esempio, virologo, epidemiologo, eccetera. L'esperto ormai è una figura che è molto frequente, frequentissima. Io direi che non c'è veramente ormai campo in cui non ci sia l'esperto. Sicuramente non c'è in filosofia, in filosofia non c'è l'esperto, io non sono un'esperta. Chiedono, lei è esperta? No, io non sono esperta assolutamente di niente perché nella filosofia non ci sono gli esperti. Però l'esperto è una figura molto presente in tantissimi campi, potremmo enumerarne tantissimi, veramente. L'esperto è una figura sotto alcuni aspetti ingombrante, a mio avviso, e anche un po' inquietante. Perché? Perché anzitutto è la faccia pubblica della scienza. La scienza per poter, come dire, comunicare con il grande pubblico, ma anche per poter comunicare con la politica, per poter intervenire nella politica, ha bisogno dell'esperto. In qualche modo l'esperto è la figura che media il sapere scientifico. Perché? Cerco di essere il più semplice possibile. Perché lo scienziato è sempre, come dire, titubante. Lo scienziato ha sempre degli interrogativi. Non è mai veramente appagato dei risultati che ha raggiunto. L'esperto, anche un po' sotto la pressione della politica, sotto la pressione dell'opinione pubblica, è spinto invece a dare delle risposte. Delle risposte che siano oggettive, che abbiano una oggettività, ma soprattutto delle risposte che siano operative. E noi lo sappiamo bene, perché noi ormai siamo abituati a distinguere zona rossa, zona gialla, zona bianca. L'Italia forse diventerà nei prossimi giorni tutta zona bianca, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo, lo dobbiamo ammettere, sono indicazioni degli esperti che vengono recepite nella politica e vengono tradotte politicamente. Ed è giusto, ed è naturalmente giusto che sia così, anche se sappiamo benissimo che ci sono state e ci sono sempre anche polemiche, perché si mettono in discussione, soprattutto negli ultimi mesi, molto meno nell'anno passato, ma negli ultimi mesi, come dire, le polemiche anche sono aumentate. Ecco, l'esperto è necessario, l'esperto è indispensabile. Perché l'esperto è indispensabile? È indispensabile perché noi viviamo in un mondo di alta complessità. La complessità è enorme. Noi siamo, come dire, proiettati in un mondo, che lo vogliamo no, in un mondo globalizzato, per cui inevitabilmente abbiamo a che fare con la complessità. Pensiamo soltanto, si potrebbero fare tantissimi esempi, ma pensiamo soltanto a quello che ormai vuol dire, per esempio, la digitalizzazione. Che cosa vuol dire, appunto, la vita virtuale? Tutto quello che è avvenuto anche con grande accelerazione nell'ultimo anno. Lo sapete benissimo, per esempio, nell'istruzione, scuola e l'università. In fondo, nonostante tutto, la scuola e l'università hanno resistito anche grazie a tutto ciò, ma è vero che siamo di fronte a una enorme complessità e quindi abbiamo bisogno degli esperti per districarci. Sarebbe impossibile farne a meno. Quindi questo da un lato. Dall'altra parte, questa figura è una figura, come dicevo prima, userei l'aggettivo inquietante, che forse può sembrare un aggettivo esagerato, però secondo me non lo è. Perché inquietante? È inquietante perché di fronte all'esperto, e pensiamo un po' una scena, come dire, un'archiscena, no? Cioè una scena paradigmatica in cui si presenta l'esperto. Penso, non so, a dei programmi televisivi, non voglio fare nomi, ma programmi importanti anche, no? Di informazione, dove si presenta l'esperto e si presenta con una serie, per esempio, di grafici, di dati, di tabelle. Di fronte a queste informazioni, che sono informazioni importanti, noi però come, diciamo, come cittadine e cittadini siamo azzittiti. Cioè quali strumenti abbiamo per poterci confrontare con l'esperto e con i suoi dati? Possiamo fare domande, indubbiamente, però voi capite che i dati dell'esperto rischiano i dati non soltanto descrittivi, ma i dati operativi, sono un pericolo, sono un rischio. E questa è la domanda che si fanno molti filosofi, politologi, sociologi. Se la facevano prima e adesso molto di più è diventata la domanda per eccellenza. Perché? Beh, perché questo è il portato anche di questa pandemia, di questa veramente crisi pandemica, che è una crisi epocale, no? Che ha cambiato questo secolo, che segna un primo o un poi, no? Nel ventunesimo secolo, ma che veramente ha cambiato il mondo, ha cambiato le nostre vite. E qui c'è una grande domanda. E la domanda riguarda la politica, la domanda riguarda ovviamente la democrazia. Perché la domanda, vorrei anzitutto affrontare prima il tema della politica. Perché riguarda la politica? Perché noi sappiamo che uno dei grandi, se devo riassumere, uno dei grandi nodi che vengono oggi discussi è la, come dire, la natura della politica, il carattere della politica. Perché? Perché la politica ormai, negli ultimi anni, direi sempre più a partire dal 2008, quindi dalla grande crisi finanziaria del 2008, è diventata sempre più una governance amministrativa. Va bene? Si parla ormai, filosofi, politologi parlano appunto di governance amministrativa. Perché governance amministrativa o anche amministrazione? L'amministrazione è importantissima, quindi guai a sottovalutare l'amministrazione. Anzi, noi lo sappiamo bene e l'abbiamo visto anche durante questa crisi, ma voi lo sapete perché appunto vivete in una città dove è molto più facile controllare e sapere il lavoro di chi amministra e quindi si vede quanto l'amministrazione incida sulle vite dei cittadini. In una, come sapete, in una grande città, io sono di Roma, Roma è molto più difficile per certi versi, anche se naturalmente le responsabilità poi degli amministratori sono poi palesi, evidenti. Ecco, la politica è amministrazione, ma, questo è il problema, la politica non è solo amministrazione, non può essere solo amministrazione. Perché? Perché la politica è sempre anche visione. Il politico non è, non può essere soltanto, non può, come dire, soltanto accontentarsi del mestiere di chi amministra. A parte il fatto che naturalmente amministrando poi comunque si mette in pratica una visione politica. Ma quello che voglio dire è che il problema su cui oggi si discute, si dibatte, è proprio la questione di una visione complessiva. Con visione complessiva non intendo la grande utopia, non intendo, diciamo, la, come dire, la città del futuro, la città del sole o cose di questo genere. Intendo qualcosa di diverso, cioè intendo sapere qual è la direzione. Questo è il punto. Un esempio che faccio, che ho fatto anche in altre circostanze, è l'esempio del timoniere di Agamennone. Che voi sapete, il timoniere di Agamennone, che è molto bravo e lo riporta in patria. Ma in patria Agamennone verrà ucciso. Allora, qual è il punto? Il punto è che l'esperto è, possiamo dire, il conoscitore del mezzo. Cioè, ci dice, se tu devi risolvere questo problema, fai così. Questa, per esempio, secondo questi parametri, puoi decidere che questa è la zona bianca, è la zona gialla, è la zona rossa, eccetera. Il politico non può accontentarsi di questo, perché il politico deve sapere, come nel caso di Agamennone, la rotta. Deve sapere se davvero è il caso di tornare a casa o invece no. Cioè, con visione, forse un'altra parola per visione è proprio la rotta. Dove andiamo? Quindi, non si tratta soltanto di una buona amministrazione, ma si tratta, e questa differenza è importante, dello scopo, dei fini, non solo dei mezzi. Perché, non abbiamo qui il tempo per affrontare il problema, però voglio accennarlo, perché una delle grandi questioni oggi di questo mondo così dominato dalla tecnica è il predominio dei mezzi sui fini. E questo è un punto gravissimo. Dominano i mezzi e i fini passano in secondo piano. Importante fare questo, io lo vedo per esempio anche all'università, non so dove, no? C'è la digitalizzazione enorme, quindi bisogna fare questo, sbrigare questa pratica, come dire, burocratico digitale, ma a qual fine? Il fine non se lo chiede più nessuno. Invece il fine è importante. Il fine è per eccellenza compito del politico. Il politico deve avere la visione, deve avere il fine. Non può perdere di vista il fine. Ecco perché il rapporto tra l'esperto e lo scienziato è ambivalente per quello che abbiamo detto, ma ancora più ambivalente e ancora, se vogliamo, più conflittuale è il rapporto tra il politico e l'esperto. E d'altronde è il grande problema che noi viviamo oggi in Italia, giorno per giorno. Chi si serve di chi? L'esperto si serve del politico e il politico dell'esperto. Noi abbiamo visto, non ho bisogno naturalmente di fare nomi, ci sono virologi importanti, epidemiologi importanti, che, come dire, si sono barcamenati a stento, hanno fatto fatica, non si capiva bene, diciamo, quale fosse il ruolo, alcune volte sembrava, diciamo, straripassero, eccedessero. Era sempre una situazione di tensione. E qui, fatemi fare anche, voglio fare una parentesi, non c'è dubbio che questa crisi pandemica abbia, come dire, esasperato questo problema. Perché il problema c'era anche prima, ma la crisi pandemica lo ha esasperato. Perché lo ha esasperato? Beh, perché dove finisce il diritto e comincia la sanità? Alcuni già parlano, per esempio, di stato medico. Il cittadino è ancora un cittadino o è già paziente? Noi siamo, anzi voi, io in questo momento no, siete tutti diligentemente con le mascherine, abbiamo seguito le regole, non potevamo fare diversamente, era giusto che fosse così, però contemporaneamente non possiamo non chiederci se siamo in un certo ruolo, siamo ancora cittadini o siamo già pazienti di uno stato che, uno stato medico si intende uno stato che naturalmente si intromette nella questione non solo della vita, ma anche della sanità, della salute del cittadino. Questo è un grande interrogativo, una grande questione, ma torno al problema della politica. Dunque la politica non può evidentemente essere solo amministrazione, perché la politica che è solo amministrazione è una politica che non sa più dove va. Non solo, ma qui c'è un problema ulteriore ed è il problema della democrazia. Perché? Beh, perché inevitabilmente tutto ciò ha degli esiti più, come dire, essiziali, sconvolgenti per le società democratiche e molto meno per le società che democratiche non sono. Noi abbiamo visto che paesi che non hanno i problemi, come dire, democratici che abbiamo noi, hanno agito diversamente, si sono comportati diversamente nella crisi pandemica. Pensiamo soltanto al grande tema che io qui non ho il tempo di affrontare, che è il tema della sorveglianza e il tema della invasione nella privacy. Ecco, quindi, però questo tema lo lascerei da parte perché ovviamente non si può trattare tutto e invece torno appunto alla questione della democrazia. Ora, il ruolo dell'esperto, la riduzione della politica ad amministrazione ha notevoli conseguenze per la democrazia ma contemporaneamente noi dobbiamo dire, e ci tengo a farlo, che la democrazia, come dire, è in crisi già da prima. C'è un politologo che a me piace molto, che si chiama, un politologo francese, che si chiama Jacques Rancier, che ha parlato di odio per la democrazia. Cioè, la crisi della democrazia è stata, questa è un po' la sua tesi, se devo sintetizzarla, è stata utilizzata, è stata usata per mettere in discussione la democrazia. La democrazia non funziona. Rispetto a un mondo complesso, rispetto alla figura dell'esperto che serve sempre di più, che è indispensabile, che fornisce dati operativi, rispetto all'esigenza di una macchina ben funzionante, di un'amministrazione funzionante, voi capite che la democrazia sembra in fondo quasi un inciampo, un ingombro, una forma politica che non funziona, appunto una forma politica che quasi quasi ci disturba. No, ecco, noi non possiamo non vedere, quindi non inserire le nostre domande, le nostre questioni oggi all'interno di questo orizzonte, di questa crisi della democrazia. Crisi dovuta, come sappiamo, anche ad altri motivi, pensiamo semplicemente a due motivi importanti. Il primo è la crisi della rappresentanza, di cui si è parlato tantissimo, forse perfino troppo, che è stato un tema, diciamo, molto, molto frequentato, soprattutto prima della pandemia e che poi ha portato agli essiti del populismo. e dall'altra parte, l'altra, diciamo, grande delusione o disillusione è che la democrazia prometteva e promette uguaglianza e che questa uguaglianza noi non la vediamo, che anzi le disuguaglianze sono sempre di più. Quindi questo bisogna riconoscerlo. Ma qual è il nodo importante oggi alla luce appunto anche di quello che ho detto prima e di questa devastante crisi pandemica è che ne è però della democrazia così come noi la viviamo. E non si può non dire questo. Voi sapete che spesso, in realtà lo faccio anch'io, noi quando parliamo di democrazia pensiamo alla polis greca, pensiamo ad Atene, alla culla della democrazia, ma è pur vero che la nostra democrazia è molto lontana da tutto ciò e che la polis greca, pensiamo appunto come sempre l'Atene è sempre l'esempio, aveva tantissimi limiti. Le donne non partecipavano, erano ammessi, era ammessa la schiavitù, la schiavitù era ovvia, i meteci non avevano cittadinanza, la cittadinanza atenese era molto esclusiva, basata sul suolo, sul sangue, molto razzista, eccetera, eccetera. Però era basata, questo ci interessa, come dire, in un discorso appunto ampio, più filosofico, era basata sulla partecipazione. Cioè il cittadino atenese aspirava a prendere parte, a partecipare alla polis. Qual è invece la cifra oggi della nostra democrazia? È un'appartenenza che io direi è basata sul no limitangere, cioè non toccarmi. Nel senso, io appartengo a questa democrazia, però in fondo, quello che chiedo è semplicemente di essere in qualche modo tutelato come cittadino. La partecipazione in fondo non mi interessa. Mi interessa invece la mia protezione. Intanto sono qui, intanto faccio parte di questa polis in quanto sono tutelato. E infatti, quello che mi interessa sono i miei diritti. Oggi si parla tantissimo di diritti, 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 diritti. Per carità, è importante, io stessa dico, è importantissimo parlare dei diritti delle cittadine e dei cittadini. Tantissimo dei diritti delle cittadine delle donne che subiscono violenza e lo sappiamo quante disuguaglianze e quante discriminazioni ci sono proprio anche da questo punto di vista. Però, se voi ci fate caso, ci riflettete, c'è molto l'idea del cittadino che vuole essere protetto, che vuole essere tutelato. C'è anche, purtroppo, un po' il fraintendimento. Cioè, il fraintendimento è che la libertà sia garanzia, che la garanzia sia libertà. Sono libero perché sono garantito. Questa è la mia sfera, è vero, questa è la mia sfera privata, io ho bisogno di essere garantito, il resto non mi interessa. E un po' questo rapporto che noi abbiamo si riflette anche in quello che si chiama in genere indifferenza e che io chiamerei piuttosto anestesia. Noi siamo anestetizzati. Perché siamo anestetizzati? Perché in fondo appunto non ci interessa quello che capita altrove, quello che capita fuori, ci interessa sempre più la nostra protezione, la nostra tutela, potremmo dire oggi anche la nostra immunità. ci interessa essere immuni, immunizzati, indenni, uscire indenni appunto da questa grande crisi, da questa grande catastrofe. Ma il rapporto che noi abbiamo, questo rapporto, che non è più un rapporto di partecipazione, è un rapporto semplicemente basato sulla come dire rivendicazione dei propri diritti, della propria garanzia, quindi libertà intesa come garanzia della propria immunità. Ma questo non può non riflettersi sulla politica, non può non riflettersi sul modo in cui noi viviamo la democrazia, in cui viviamo la politica. Perché? Perché quando si parla di disaffezione, la disaffezione è proprio anche dovuta a questo, cioè non è soltanto la crisi della rappresentanza, ma è anche appunto questo modo di vivere la comunità nel segno della immunità, nel segno dell'essere tutelati individualmente. Questo però non può non avere riflessi sulla comunità politica. E qui i riflessi naturalmente sono tanti e oltretutto sono riflessi e ripercussioni anche per il singolo cittadino, inevitabilmente. Perché voi capite che una comunità dove ciascuno è interessato come dire alla propria tutela, alla propria garanzia diventa una comunità disgregata, dove non ci sono veramente legami, dove anzi si rischia che l'unico legame è la paura. L'unico legame diventa la paura. l'unico governo ammissibile è il governo della paura. Quindi questo ha delle appunto delle ripercussioni su tutti noi, sulla vita di noi cittadini. E aggiungo anche ed ha un nesso anche con quello che dirò tra poco che a questo proposito io non posso non affrontare anche il tema che la nostra democrazia è sempre più intesa come una etnocrazia. Quando noi parliamo di democrazia, democrazia tradizionalmente si intitola appunto si traduce appunto è il governo del demos del popolo. Demos è una parola molto complessa ma anche molto bella perché è la parola popolo ma in senso anche molto aperto. E qual è il rischio che noi viviamo da un po' di anni a questa parte ma che diciamo è un rischio molto più elevato soprattutto in quest'ultimo periodo che il demos venga sempre più assunto nel senso dell'etnos quindi non una democrazia ma una etnocrazia come tradurre etnos etnos è una parola greca ma che resa anche bene dalla parola italiana etnia ed è un po' l'idea che quelli che sono per me affini sono quelli a cui sono legata in qualche modo appunto da legami etnici da legami di parentela da vincoli di sangue o magari da appunto vincoli di suolo sei nato qui allora in qualche modo condividiamo la nascita la nascita ci accomuna il sangue ci accomuna ecco questo scivolamento graduale ma purtroppo c'è dalla democrazia all'etnocrazia è uno scivolamento che io ricordo già qualche anno fa aveva ricordo il il filosofo tedesco Jürgen Habermas già qualche anno fa aveva lanciato questo allarme no cioè l'allarme un filosofo a cui diciamo è stato sempre molto a cuore anche il futuro dell'Europa io non condivido tutte le sue posizioni però alcune posizioni sono state importanti e importanti anche degli allarmi che ha lanciato e appunto a un certo punto Habermas ha proprio lanciato questo allarme questo segnale attenzione perché soprattutto in Europa noi stiamo sempre più interpretando la democrazia come una etnocrazia e una democrazia che diventa sempre più a base etnica è una democrazia che in qualche modo che si disdice che si autonega che si contraddice perché il demos è aperto e il demos non può essere assunto in termini appunto così ristretti e soprattutto perché invece sarebbe importante e auspicabile una cittadinanza democratica una cittadinanza veramente democratica e aperta soprattutto per esempio la cittadinanza europea che invece non è così questo è un problema che io appunto insieme a quelli che ho già menzionato vorrei appunto sottolineare il rischio è non solo quello della diciamo della aspirazione dei cittadini immuni immunizzati presi soltanto come dire dalla propria dalla propria vita ma anche vita nel senso proprio di garanzia ma dall'altra parte anche l'ammissione di una frontiera della democrazia una frontiera etnica un limite etnico della democrazia e questo e questo soprattutto per le democrazie europee e soprattutto per l'Europa che ha un passato così grave alle spalle in fondo anche relativamente recente che ha già seguito la politica dei criteri etnici soprattutto le due nazioni più giovani della della democrazia europea che sono le più tarde la Germania e l'Italia e invece devono appunto prestare attenzione a questo e non ricadere appunto in nella appunto nell'utilizzo nel ricorso a questi criteri etnici ebbene apertura democrazia nel senso più alto della parola ma si dovrebbe dire anche partecipazione la parola partecipazione mi sembra che dovrebbe essere veramente come dire la parola la parola guida nel futuro pro in questo futuro prossimo che abbiamo davanti perché anche quello che ci è mancato il confronto la partecipazione pensare che prima della mia libertà c'è la responsabilità che ho nei confronti degli altri e la responsabilità non è una scelta ma in fondo proprio anche il mio ubiquin system perché io sono in quanto rispondo all'altro e anche mi costituisco rispondendo all'altro e questo è molto importante per tutti noi e per la nostra comunità democratica ma vengo all'ultima riflessione ed è per chiudere il circolo e ritornare a quello che avevo detto all'inizio il pericolo della figura dell'esperto noi abbiamo bisogno delle competenze abbiamo bisogno non solo della competenza ma dico delle competenze al plurale e proprio in Italia abbiamo fatto esperienza di che cosa vuol dire anche la mancanza di competenze abbiamo visto anche quanto siano importanti le competenze perché è una questione di vita o di morte per cui abbiamo bisogno delle competenze ma contemporaneamente abbiamo bisogno anche di difendere la democrazia la democrazia non può essere sospesa dalle competenze non è possibile immaginare che un governo di competenti ultra competenti esperti sospenda la democrazia questo non è possibile quindi io credo che la grande sfida sarà quella di trovare una mediazione perché il rischio è appunto la perdita della democrazia di solito noi non abbiamo una prospettiva diciamo esterna non ci rendiamo conto di quanto sia importante l'Europa di quanto sia importante l'Italia e l'Italia nell'Europa e di quanto sia importante l'Europa l'Europa rappresenta tantissimo rappresenta i diritti i diritti umani ma rappresenta la democrazia e rappresenta la democrazia a mio avviso molto di più degli Stati Uniti perché la democrazia negli Stati Uniti è il modello a cui facevo un po' riferimento prima del Noli Metangere e questo modello dicono i filosofi un po' il repubblicano cioè io sono qui non mi prendere troppe tasse questa è la mia sfera ecco la democrazia europea è altra è diversa ha tante vicissitudini tragiche però la democrazia europea invece è partecipazione e poi pensiamo a quello che avviene anche in tanti altri paesi europei dove noi possiamo dire attenzione come funziona bene funziona benissimo ma certo da un certo punto di vista funziona bene amministrativamente magari funziona bene non ci sono le disfunzioni che abbiamo noi ma non c'è la democrazia e il problema della democrazia e questo lo voglio dire proprio con di questo si sono convinta la democrazia non è ordine la democrazia non è un mondo bene ordinato la democrazia è disordine io dico sempre la democrazia è anarchica perché perché appunto è già nasce con l'idea appunto che si possa mettere in discussione la democrazia stessa che sia giusto il confronto noi pensate non daremmo mai più nessuno di noi la vita per la verità e secondo me giustamente perché perché appunto siamo abituati ormai all'idea che la verità la costruiamo dialogando che la verità si costruisce nella comunità nel dialogo non c'è la verità assoluta e questo è un bene e ce lo insegna la democrazia ma la democrazia proprio per questo ha anche tante disfunzioni tanti svantaggi l'idea che la democrazia sia ordine è sbagliato e voi capite che però qui c'è la grande questione come mediare tra una politica che è sempre più spinta verso la governance amministrativa verso l'amministrazione e dall'altra parte invece la democrazia i valori democratici la partecipazione dei cittadini perché come cittadini noi lo dobbiamo confessare siamo sollevati quando veniamo a sapere che è stato risolto un problema è stato risolto un problema meno male ha una soluzione benissimo ha i mezzi per risolverlo splendido magnifico no siamo come dire preoccupati se chi governa non ha gli strumenti i mezzi per risolvere il problema giustamente però attenzione perché io credo che una deriva oggi sia quella che io chiamo il soluzionismo cioè l'idea che ci debba essere sempre una soluzione bella e pronta spesso mi capita quando partecipo a incontri conferenze mi chiedono ma concretamente lei cosa propone ma qual è la soluzione ma a parte che io appunto il mio mestiere è fare domande quindi non dare risposte ma io penso che questo questa sia veramente una deriva cioè pensare che ci sia sempre una soluzione bella e pronta una soluzione come quella un po' dei problemi matematici ma non funziona così non funziona così nella vita e non funziona così nella politica e quindi noi non possiamo come cittadini accettare appunto il soluzionismo non possiamo accettare appunto che tutto venga risolto amministrativamente da una governance questo è vorrebbe dire veramente non solo sospendere la democrazia ma vorrebbe dire anche in questo caso sì cedere i nostri diritti importantissimi ma soprattutto il diritto alla partecipazione il diritto al confronto ecco perché io dico le risposte vengono da tutti tutti dovrebbero sentirsi responsabili in questo senso anche nel tentativo di cercare le risposte e qui io tempo fa ho parlato del cittadino infante mi ricordo l'ho fatto proprio su un articolo per la stampa il cittadino infante il cittadino che non è più delle regole ma perché queste regole eccetera ecco il cittadino infante è il cittadino è l'altro estremo quello che non vogliamo quello che in fondo poi alla fine è speculare rispetto appunto alla governance amministrativa mentre proprio in una fase così grave come questa quello che si richiede è la responsabilità dei cittadini e questo e pensare proprio in questo senso che la responsabilità prima dell'immunità sia veramente appunto un diritto vi ringrazio grazie grazie a tutti grazie a tutti